Il comune con il reddito pro capite più alto d'Italia, ovvero 45.393 euro, è quello di Laiatico, in provincia di Pisa, dove alla residenza il tenore Andrea Bocelli, mentre il più ricco della Calabria è soverato. Il reddito meglio dichiarato dai cittadini della nota località dello Ionio Catanzaresi è infatti di 20.072 euro. E' questo quanto emerge dai dati rilevati dal Ministero delle Finanze ed elaborati da Twig.pro, partendo dalla dichiarazione della 2017, quindi relative all'anno di imposta 2016. Tra le Calabresi, il soveato, che si piazza più o meno a metà classifica su scala nazionale, è seguita da Rende e Cosenza, con la città Abruzia, che risulta la più ricca tra i capoluoghi di provincia. Quarto posto, sempre tra i comuni calabresi per Catanzaro, 19.371 euro, settimo per Reggio Calabria, con 18.225 euro, e ottavo per Vibo Valencia, con poco meno di 18.000 euro. Molto più basso il reddito medio dichiarato dai cittadini di Crotone, 16.179, diciassettesimo tra i comuni calabresi e ultimo dei capoluoghi di provincia. Solo venticinquesimo posto tra i comuni calabresi, infine, per la mezza terme, che nonostante sia il quarto centro della Calabria, ha un reddito medio pro capite di 15.529 euro. In coda alla classifica nazionale i comuni calabresi più poveri, che sono Dinami, in provincia di Vibo, con 9.051 euro, Torre di Ruggero, nel Catanzarese, con 9.045 euro.